Paolo Camaioni è il nuovo sindaco di Martinsicuro che con la lista città attiva conquista lo scrano più alto del comune raccogliendo 2.683 voti pari al 34,7% contro Massimo Vagnoni che con 2.516 voti si attesta sul 32,5% Andrea Buonaspeme col 30% e 2.316 voti Francesco Tommolini della Lega Nord al 2,6% con 204 voti un risultato combattuto fino alla fine con un testa a testa a tre che ha portato alla vittoria di un progetto, quello della lista civica che arriva da lontano, progettato 5 anni fa con la prima esperienza elettorale e forgiato in 5 anni di opposizione il resto poi lo ha fatto alle urne dove il nuovo sindaco Paolo Camaioni è stato capace di intercettare quello che è anche il vento che spira contro le formazioni politiche classiche Sicuramente dovremo lavorare per delle scadenze che sono imminenti come quella dell'approvazione del bilancio preventivo che non è stata messa in pratica dall'amministrazione uscente ma soprattutto cercheremo di adottare i provvedimenti sempre coinvolgendo il personale e tutte le funzioni della macchina amministrativa con un'apertura anche alle minoranze perché lo voglio ricordare soprattutto per effetto di questi risultati che si sono decisi alla distanza del 2-3% non avendo cittativa una maggioranza qualificata ma una maggioranza relativa non potrò che essere il sindaco di tutti i cittadini Delusione nel volto e nelle parole di Massimo Vagnoni Mi auguravo che il risultato fosse diverso però insomma dobbiamo accettare quello che è il risponso delle urne L'amarezza per l'esito delle elezioni è tanta dichiara il candidato del centrodestra e certe valutazioni sugli aspetti numerici dovranno essere fatte con attenzione Degli errori sono stati anche fatti e mi assumo tutte le responsabilità Andrea Buonaspema è sostenuto dal centrosinistra e forse meno deluso rispetto al collega chi ha vinto lo ha meritato afferma anche perché è stato capace di veicolare meglio il proprio messaggio come centrosinistra ripartiamo da questo progetto nuovo e saremo intransigenti nel fare opposizione Tra i sei comuni terramani al voto quello di Martinsicuro è il calo di affluenza più significativo rispetto al 2007 il 6,95% degli elettori che nel 2007 si erano recati alle urne ha infatti deciso di non votare in questa tornata elettorale La lista città attiva si aggiudica ai due terzi dei seggi del Consiglio il restante terzo verrà suddiviso tra gli altri partiti o coalizioni in base alle percentuali ottenute il primo seggio delle liste di maggioranza aspetta i candidati sindaci sconfitti 16 saranno i consiglieri che siederanno in Consiglio a Martinsicuro dopo l'applicazione delle riduzioni consigliari del 20% per i comuni con più di 10.000 abitanti 5 gli assessori in giunta